GLS investe tanto sui giovani, come mai questa scelta dei giovani? E' un'iniziativa nata tre anni fa con la volontà di fare solidarietà per i giovani, per dare la possibilità a questi giovani di solcare un campo di calcio da Serie A e raccogliere fondi a fini benefici. Il calcio giovanile, lo sport per i giovani in generale è uno dei valori che intendiamo sostenere come GLS. Non solo giovani, però sostenete anche l'ecologia. Sono famosi i re-show in centro per le consegne. Come mai questa scelta che forse è poco veloce del tempo, ma però è più economica? Vicenza è stato capostipito nello sperimentare già da otto anni a questa parte questa modalità di consegna, la consegna in bicicletta. Sembrava impossibile e invece come Vicenza ha aperto la strada per tante altre iniziative di questo genere in giro per l'Italia ma anche per l'Europa. GLS in Italia è un esempio anche per le altre GLS in giro per l'Europa come soluzioni ecologiche e la bicicletta ne è una di queste. Che obiettivi vi date per il futuro? Continuare questo torneo? Fare altre iniziative per i giovani? Questo torneo è diventato una grande occasione per i giovani e anche per raccogliere i fondi per questa associazione che si chiama Team for Children che qui a Vicenza fa del bene al reparto di oncologia pediatrica. Vogliamo continuare con questa iniziativa, siamo stati molto felici che anche la nuova gestione del Vicenza Calcio abbia accolto con favore di ospitarci qui allo Stadio Menti che è una cornice importante per far disputare questo torneo.